Clamorosa partita rega, clamorosa, 6 gol e tante emozioni dall'inizio della gara, mamma mia che partita E sono due squadre che si sapeva che potesse finire così la partita perché comunque la Lazio è una delle peggiori difese ma anche uno dei migliori attacchi L'Empoli è una squadra che gioca bene a calcio, ha un'idea di gioco con Andrea Zoli e fa tanti punti con il big E comunque sta facendo un percorso abbastanza importante, infatti sono a meno del 3 dalla Lazio E oggi pareggiano 3 a 3 con un Empoli che segna la 9 partita consecutivamente, è una squadra abbastanza competitiva in questo campionato E la Lazio ci ha pareggiato un pareggio amaro perché poteva approfittare dei big match Juve-Napoli e Milan-Roma magari per prendere punti Ma la Lazio pareggia, esce dall'Olimpico pareggiando con 25.000 circa spettatori La Lazio uno dei migliori, diciamo, scorre di questo campionato a livello di tifosi Con biglietti ridotti da lotito e diciamo con questi maxi sconti si è visto un po' il risultato Con la capienza comunque ridotta al 50% Ma oggi una partita strepitosa, strepitosa Tre gol da una parte e dall'altra In 5 minuti subito un gol dell'Empoli 1-0, rigore netto Mamma mia, ingenuità di Stracoscia che esce malissimo Esce proprio violento Cioè proprio in tutta corsa E va a sbattere contro l'attaccante E fa praticamente regalare Regala il rigore all'Empoli Che poi realizza assolutamente E Berami che spiazza Stracoscia E fa l'1-0 ma veramente la Lazio parte male Sembrava la stessa partita di Napoli Ma poi ovviamente con un avversario più scarso E fa il 2-0 con il gol di Zorkovski Grande azione, passaggio dalla laterale Veramente Cross indietro basso E Zorkovski ovviamente non marcato Perché Luis Felipe si fa saltare sotto le gambe E fa il gol del 2-0 l'Empoli Che poi inizia con un approccio strepitoso la partita Ma comunque Sarri all'inizio si vedeva un po' La Lazio che era organizzata Con la linea alta per prestare subito l'Empoli Invece poi dopo 7 minuti era già sotto di 2 Diciamo che poi ha segnato subito Immobile Dopo 14 minuti già 2-1 Immobile ha accorciato le distanze Sul cross di Milinkovic E gran gol di testa Niente da dire E poi la Lazio da lì ha dominato Per gran parte della partita Con una traversa E tante emozioni a non finire Una traversa che comunque L'ha presa con Una grande velocità di sa In contropiede Che poi la veramente bella palla Per Luis Alberto Che perde troppo tempo Troppo tempo davanti al portiere Palla che va dietro Calcia Felipe Anderson E prende una grande traversa Diciamo che ha sprecato molte azioni Anche la Lazio con Immobile Che era a campo aperto In un'altra occasione E si è fatto recuperare Per non sapere che scelta fare In quell'occasione Glamorosa Poi ha pareggiato la Lazio Nel secondo tempo Dopo un dominio assoluto Con la Lazio Che crea molto Ma non è riuscito A approfittare Le proprie occasioni Ma ha segnato Milinkovic Che oggi ha fatto una partita strepitosa Tra gol e assist Da centropanti ha aggiunto Gran cross in mezzo Laterale Lui colpisce di testa E riesce a fare gol Con un cross di Di Felipe Anderson Ma l'Empoli Ripassa in vantaggio Dopo che stava giocando malissimo Con una partita Che era andata a favore Della Lazio Ma l'Empoli Si riporta in vantaggio Una grande squadra L'Empoli quest'anno Ha fermato anche la Lazio Dribbling di Marchizza Strepitoso Si fa saltare Luis Felipe Sotto le gambe Clamoroso E palla dentro Gol di Di Francesco Che fa il gol Cioè non sotto le gambe Di coso Ma comunque Un gran dribbling Di Marchizza Palla dietro Il gol di Di Francesco Che rimette Sul 3 a 2 E poi è successo Di tutto Tra Risse L'arbitro un po' In confusione Calci di rigore Inondati Col bar Le vati Veramente di tutto E ha segnato Patrick Ma è stato annullato Un altro gol Annullato Patrick Diciamo che segna Con la mano Con la mano Aperta Anzi col pugno E quindi Annullato il gol Alla Lazio Dopo i tanti festeggiamenti E c'era tempo Per riprenderla Sul 75esimo E quindi annullato Ma poi All'87esimo Calcio di rigore Per la Lazio Stavolta ci sta Tira immobile Gliela para Micari Una gran parata Micari oggi Fa una buona partita Ma lui fa sempre Grandi partite Oggi stracoscia Un po' male Su le varie uscite A livello tecnico Reina Già stava parlando Con una Diciamo Una Uno dello staff Della Lazio Secondo me Stava parlando Di vari errori Di stracoscia Con la sua esperienza Sapendolo E poi Il 3 a 3 Il 3 a 3 Di Milikovic E' un mostro Veramente Ma che comunque Oggi la Lazio Non è riuscita Ad andare Oltre il pareggio Gran gol di testa Su assist Di un grande Zaccagni Che è entrato Dalla panchina Al posto di Pedro Che ha giocato male Oggi Strano Strano E anche se Qualche conclusione Ha fatta Ma sbilenca E comunque Il gol del 3 a 3 Arriva al 93 Quando la Lazio Potremmo ancora Direttora Rivincerela Ma l'Empoli Oggi ha fatto Una grande partita E ferma la Lazio E la Lazio Questo pareggio Non va molto stretto Perché va A quota 32 E quando Poteva avvicinarsi Ancora di più Alle zone alte E perderà Punti Rispetto alle altre Big Per questo video È tutto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Perché dopo c'è Milan Roma Giossa In ansia Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per nuovi contenuti Ciao